buongiorno altro sabato mattina di fine febbraio ma se mangi sgoccio le fra un po ricomincia la pesca seria a vedani bass roba più naturale stamani altra giornata al laghetto trote vediamo di divertirci un po vai aslamaha Sì, sì, sì. ecco qua mhm ehi, good chance ehi 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 eh cazzo è no che cazzo ah non si mola posso svegliare ora per me no comunque sono sveglio cazzo questa è bellina E Claude E 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